Un negozio Solo con Brian Un negozio Un negozio Buongiorno Sì, quello ci è andato al cuore Buongiorno Grazie Dice in questo momento, in questo momento, arriviamo in il nostro niente, in Stavanga. In le prossime 15-20 minuti, vedremo le riempie di spazio con la scuola, con le 7 chieste, la scuola un po' meno, e il un po' meno, e l'aer ozio un po' solo un po' meno. Signore e signori, buon pomeriggio, bentornati a bordo della vostra casa di lusso galleggiante. In questo momento stiamo salpando verso la nostra prossima destinazione, Stavanga. E tra poco, nei prossimi 15-20 minuti, vedrete le famose cascate. A destra, le sette sorelle, in effetti sono un po' meno le sorelle, perché le cascate, cioè perché c'è meno acqua. Poi, proprio dall'alto opposto, c'è il pretendente, una cascata singola più grande. Quindi, grazie per l'attenzione e godetevi questo fantastico, unico panorama. Mesdames et messieurs, buon apprevidio e bienvenue a bordo de votre maison de lusso tonte. Ma è meraviglia. In questo momento, noi partiamo verso la prossima destinazione, Stavanga. In le prossimo 15-20 minuti, vedrete le famose chute, le sette sore, a la parte del bato. D'altro, le sorelle, le chute sono passate, non c'è molto, ci sono 3 o 4, e a l'altro cotto, ci sarà il pretendente a l'osso di bato. Grazie mille per l'attenzione e buon apprevidio e buon apprevidio e buon apprevidio. Buon apprevidio, il 7 fantastico panorama. Dami e ragazzi, buon apprevidio e benvenuti di volta a bordo di sua casa di lusso flotante, M.C. Meraviglia. In questo momento, stiamo zarpando alla prossima destinazione di Stavanga. E nei prossimi 15-20 minuti, vedrete le famose cascate. A la derecha, vedrete le 7 hermanas, che vale, non c'è molta acqua ora, e le hermanas sono abbastanza poca, sono 3 o 4. 3 o 4, e a la izquierda, vedrete il pretendente. Grazie per l'attenzione e che disfruten di questo fantastico panorama. Grazie per l'attenzione e che disfruten di questo. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.